Si indaga per terrorismo sulla vicenda di Tolosa. La procura di Parigi ha aperto tre inchieste sul dramma della scuola ebraica e su altri due assassini compiuti nei giorni scorsi in queste zone. È troppo presto per stabilire un rapporto tra le tre vicende, ma ci sono degli elementi, dice il procuratore di Tolosa, Michel Vallée, che ricostruisce i fatti. Quest'uomo è sceso dal suo scooter e davanti all'istituto ha sparato contro chiunque si trovasse di fronte, bambini o adulti. I ragazzi sono stati inseguiti fino all'interno della scuola. L'ipotesi più accreditata è dunque quella di un serial killer. Forti le similitudini con l'uccisione di due soldati giovedì scorso a Montauban, vicino Tolosa, e di un altro militare nel capoluogo dell'Alta Garonna il 12 marzo. Anche in quei casi è stata utilizzata una calibro 11,43 e ad agire sarebbe stato un uomo con un casco fuggito a bordo di uno scooter.